Musica Buonasera, buonasera e bentrovati. Purtroppo in apertura la tragedia di questa mattina, presto a Gallarate, all'incrocio tra le vie Da Vinci e Agnelli. Un uomo ha trovato la morte dopo essersi ribaltato con la sua auto inutili, benché solerti i soccorsi di Vigili del Fuoco, ambulanza e forze dell'ordine della vittima, aveva 68 anni. Adesso invece parliamo di un altro genere di intervento dei Vigili del Fuoco, in questo caso si è trattato di un'esercitazione, peraltro molto spettacolare, decine di uomini in campo nella notte tra sabato e domenica in una galleria di La Venomombello. Notte di emergenza alla Venomombello, ma solo per esercitarsi. Sotto il coordinamento della prefettura, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, Protezione Civile, Provincia, Comuni della Zona e Comunità Montana hanno simulato il deragliamento di un treno in galleria, mettendo in campo le forze necessarie e calcolando i tempi di reazione in un contesto pericoloso e complicato. 30 i pompieri impegnati, con due colonne faro per illuminare l'area interessata, l'allestimento di un'unità locale, il supporto di varie specialità tecniche, compresi i funzionari delle ferrovie, che hanno inscenato l'isolamento elettrico del tratto, il tempo necessario per le operazioni di soccorso e di evacuazione. L'esercitazione ha complessivamente soddisfatto le attese e confermato l'alto livello del lavoro di squadra. E se si trattasse del Grinch, il riferimento è un noto film molto comico e divertente, un po' meno divertente quello che sta accadendo da qualche giorno, anzi da qualche notte, a Varese, dove un ignoto ruba decorazioni e addobbi all'esterno dei negozi. Lo hanno già ribattezzato il Grinch, prendendo spunto dal libro, divenuto un famoso film con Jim Carrey e dedicato al mostriciattolo verde che detesta il Natale e ruba i doni altrui. Ma qui non siamo in una favola, bensì a Varese, e a rimetterci sono due attività del centro che hanno visto volatilizzarsi addobbi e decorazioni, compreso l'elegante tappeto rosso che Cristian Sinopoli aveva steso lungo via Le Guggiari. Probabilmente un Grinch o qualcuno che non ama particolarmente il Natale, ha ben pensato di rubare i nostri addobbi, rubando anche il tappeto rosso, un red carpet che avevamo messo da Piazza Beccaria per accompagnare le clienti fino al nostro negozio. Quindi, questo è quello che oggi succede a Varese. Colpita dallo stesso misterioso ladruncolo, l'attività di Sonia Milani in via San Martino. Inizialmente è stata fatta razzia di quelle che avevamo messo noi. Ad oggi quasi la metà di quelle che ci sono state donate dalla scuola primaria Sant'Agostino di Caciago sono sparite. Dispiace perché a Natale lo spirito dovrebbe essere un po' diverso rispetto a questo, per cui inutile dire che c'è un po' di amarezza. L'unico augurio che possiamo farci è che chi ha rubato queste decorazioni le abbia portate a casa sua per abbellire casa, forse perché aveva necessità e non poteva acquistarle. Se così non fosse, la tristezza è doppia, ma noi continuiamo a credere nella bellezza del Natale e ai Grinch non possiamo che augurare Merry Grinchmas. Dalla politica, le parole di Emanuele Monti che nel weekend ha inaugurato il Lombardia che vorrei Point, un luogo di incontro nel centro di Varese per raccogliere istanze sul mondo della sanità. Numerosi partecipanti al taglio del nastro del Point Lombardia che vorrei, inaugurato da Emanuele Monti per fornire un luogo fisico alle tante istanze, alle risorse, alle opportunità che ruotano intorno alla galassia sociosanitaria. Una sorta di riflesso operativo degli incontri che hanno portato il Presidente di Commissione in un tour regionale ricco di spunti, interventi e nuove sinergie. Per l'intera campagna elettorale, spiega l'esponente leghista, il Point all'angolo tra le vie Sacco e Veratti nel cuore di Varese sarà a disposizione del pubblico. La Lombardia che vorrei, un progetto che ha toccato tante tappe, tanti luoghi nella provincia di Varese, sei città con sei serati in cui abbiamo ascoltato il territorio, oltre 20 strutture sanitarie, sociosanitarie, della disabilità sul territorio della provincia di Varese. Oggi l'inaugurazione del punto fisico, un luogo fisico dove incontrarci, condividere, raccogliere proposte e progetti per una Lombardia che vorremmo, una Lombardia che già oggi è motore dell'Europa e domani sarà ancora di più un'eccellenza mondiale. Dal centro-destra al centro-sinistra è Riccardo Tomaiuoli, il nuovo segretario cittadino dei Giovani Democratici di Varese, raccoglie il testimone di Michelangelo Moffa, si tratta di un giovane esponente a 19 anni e studia all'Università Statale di Milano. Naturalmente a lui gli auguri di un buon lavoro anche perché ne ha bisogno, all'orizzonte ci sono le regionali. Lasciamo la politica per andare a parlare invece di Bustressizio, di una Bustressizio da ripensare su diversi fronti, proprio come sta tentando di fare l'assessore Lo Schiavo. Noi oggi ci incamminiamo su un cambiamento epocale perché andiamo a riprogettare attraverso il piano urbano della mobilità sostenibile tutta la città, non soltanto un'area, non soltanto una via ma addirittura tutta la città. Io credo che questo sia molto impattante e potrebbe influire sul consenso, ma il politico che veramente tenga la città deve pensare al bene della città, non certo al proprio consenso e su questa strada abbiamo intenzione di muoverci e ci muoveremo. Così l'assessore alla mobilità di Bustressizio, Salvatore Lo Schiavo, presenti i progetti in cantiere per quella che una volta veniva indicata come la viabilità cittadina, come il cosiddetto urbanismo tattico davanti alle scuole Marco Polo oppure l'esperienza del pedibus Alemanzoni. Ma la città del futuro, tratteggiata in aula consigliare, vede anche la riqualificazione della centrale via Cavallotti, lo scorso settembre trasformata in Cavallotti Garden, ed è la vicina via Bramante grazie al recente bando regionale vinto dal distretto urbano del commercio, oltre a uno smart parking pilota in via San Michele per un intervento totale di 1.300.000 euro. Ancora il progetto minimo di mobilità ciclistica, chiamato in dialetto bustocco una gipadua per busto, ossia una cucitura per collegare le piste ciclabili già esistenti con circa 300.000 euro nel 2023. Anno durante il quale intanto verrà messo a punto il piano urbano della mobilità sostenibile, per il quale è appena arrivata la determina di affidamento al raggruppamento di imprese che lo realizzerà, puntando su comunicazione e partecipazione. A questo proposito il mobility manager Giuseppe Vaccarino ha anticipato il lancio di una nuova app in cui, per raccogliere dati statistici, coloro che si muovono sul territorio bustese saranno invitati a segnalare i loro spostamenti a piedi, in bici, in monopattino, piuttosto che sui mezzi pubblici o in carpooling, con un sistema premiante in termini di incentivi a livello cittadino. Il tutto suggellato dalla consegna all'ematologia di Bustarsizio di quanto raccolto con la corsa appodistica promossa durante la Mobility Week. Quasi un monito per ricordare che, per realizzare la città che viaggia a 30 km all'ora, bisogna correre, ma non in auto. E restiamo a busto per gli stati generali della cultura che anche quest'anno sono stati convocati dall'assessore Maffioli. Circa 90 le realtà culturali cittadine presenti all'appuntamento che ogni anno riunisce le associazioni bustocche in seduta plenaria per presentare il lavoro svolto e quello futuro attraverso i rappresentanti dei sei tavoli tematici, arte, identità, immagini, letteratura, musica e teatro. La sesta edizione degli stati generali della cultura è stata caratterizzata da tre parole, turismo, ripresa e territorio. Turismo è infatti una delle tre parole chiave dell'edizione di quest'anno insieme a ripresa e a territorio. Lavoriamo tutti insieme sotto la cabina di regia dell'amministrazione comunale per costruire la busto del futuro, uno dei cui fondamenti vorremmo fosse proprio il mattone della cultura. Per busto si prospetta un futuro di svolta e speranza. Riprenderanno alcune manifestazioni che la pandemia aveva bloccato, come la gioia e il carnevale, e si pensa anche a nuovi spazi destinati alla cultura. Cultura che è un motore di sviluppo economico, come ha sottolineato Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese. La cultura è certamente un motore di sviluppo economico, come Camera di Commercio lo sappiamo bene perché sono anni che sosteniamo l'asset culturale che genera indotto sul territorio, muove l'economia. La cultura deve integrarsi sempre di più col suo economico, più di quanto sia oggi. Come Camera di Commercio sono anni che la sosteniamo, negli ultimi anni anche con dei bandi di finanziamento. Oggi ho spiegato quello che abbiamo fatto in questi anni con dei carotaggi a livello nazionale e internazionale per avere un overview su come anche negli altri paesi il settore culturale si muove e interagisce con il settore economico. Cassano Magnago saluta i fans del fumetto e si concentra su un esperto del settore. Il successo mondiale dei manga e delle anime provenienti dal sollevante arriva anche a Cassano Magnago. Almeno 400 le persone fino ad ora, tra grandi e piccini, che hanno ammirato giocattoli, disegni e seguito incontri con i propri beniamini alla Japan Toys Exhibition presso l'ex chiesa di San Giulio patrocinata dal Comune e dal Consolato del Giappone con altri appuntamenti previsti a gennaio. Questo evento per quanto ci riguarda è arrivato come discorso di completamento dell'attività culturale. Ho conosciuto i responsabili, ho conosciuto la loro attività, ho visto soprattutto l'interesse che mi riportava circa 20 anni fa quando i miei figli guardavano i cartoni animati che rappresentano un pochino tutta l'arte culturale importantissima giapponese. Tra gli ospiti più conosciuti, Gianluca Iacono, lo storico doppiatore, dalla fine degli anni 90, di uno dei personaggi principali del manga Dragon Ball di Akira Toriyama, il principe Saiyan Vegeta. Lo amo per tante cose perché è un personaggio che dà la forza di rialzarsi e per tanti è così, per tanti ragazzi che mi scrivono anche, trovano in Vegeta questa forza di andare avanti. Personaggi grossi ovviamente sono anche la voce di Gordon Ramsay per esempio, di Marshall in A Meteor Mother che è una sitcom che ha avuto comunque un grossissimo successo. A proposito di Vegeta è nato anche un nuovo lavoro e che ha un titolo un po' insomma particolare. È un titolo un po' provocatorio, cioè Vegeta è morto e l'ho ucciso io, che è uno spettacolo che farò al Martinit a Milano il 10 e l'11 gennaio e poi dal 2 al 5 febbraio a Roma al Teatro dei Servi in cui porto il doppiaggio a teatro, porto Vegeta a teatro, porto il mondo nerd a teatro, il mondo pop e poi anche il mio lavoro, cioè come si convive con tutte queste voci nella testa. E tra gli ulli di battaglia di Vegeta, tanta gente, più di 700 i partecipanti in salone estense per una bella iniziativa spettacolare, colorata ma soprattutto benefica andata in scena ieri. Un bel dono di Natale, non da scartare bensì da danzare, proprio come hanno fatto i 700 partecipanti che a rotazione hanno animato il salone estense di Varese con balli ottocenteschi in costume d'epoca e non solo. Una bella iniziativa, giunta la sua seconda edizione ancora una volta capitanata dall'associazione 2320 di Sonia Milani. Obiettivo? Mostrare sul campo, anzi su pista da ballo, i progressi compiuti grazie alla borsa di studio assegnata a Giovanni Alienelli, uomo disabile, innamorato della danza e protagonista del progetto Scarpette nel cuore, finanziato da Camera Condominiale di Varese. Grazie a quella preziosa donazione, Giovanni e la sua partner, Enrica Passadori, hanno conquistato il titolo di vice campione italiano e di campione regionale in ambito paralimpico. L'evento, benefico e benaugurante, è stato salutato dall'organizzazione come un grande successo e col più sentito ringraziamento a Eliana di Società Danza Milanese, Carlo di Art Dance. Quasto al Monte ritrova il suo mercato, appuntamento ogni lunedì mattina per un'iniziativa che punta, prima di tutto, al valore dell'incontro. Quasto al Monte riscopre il suo mercato, con i banchi, i prodotti artigianali e più in generale, la possibilità di incontrarsi. Siamo fierissimi di questa cosa, è stato un successo perché Quasto aveva proprio bisogno non solo del mercato in sé, ma per noi anche un punto d'incontro. Abbiamo notato che persone che non si vedevano magari da anni si sono rincontrate qua, si sono salutate. Aperto ogni lunedì, il rinnovato mercato di Quasto è tutt'ora in fase di elaborazione. L'auspicio è di poter rispondere tassello per tassello ai desiderata di commercianti e popolazione. Stiamo pensando a nuove forme di incentivazione che possono aiutare i cittadini a poter raggiungere il mercato da tutte le frazioni. C'è bisogno magari di dare una mano a una certa parte alla popolazione che non ama muoversi o non può muoversi con la propria auto per poterci raggiungere in maniera più facile. E quindi ci stiamo lavorando e speriamo al più presto di poter dare anche la soluzione di questo piccolo problema che ci è stato posto. Entro primavera, promette il sindaco, l'offerta sarà completa e collaudata. Il bel tempo di primavera dovrebbe poi chiudere il cerchio e darci la possibilità di mettere tutte le varie cose con un tempo anche un po' più caldo e un po' più incentivante per l'uscita e per la spesa del lunedì mattina. Un grande successo, come sempre, perché il coro divertimento vocale a Gallarate è da sempre sinonimo di trionfo. Sold Out è arrivato a pochi giorni dall'apertura del botteghino. Il concerto di Natale quest'anno a Gallarate è stato ancora più sentito e partecipato dopo tre anni di mancanza sul palco del Teatro Condominio è tornato il coro divertimento vocale con 130 coristi e 7 musicisti guidati dalla passione e dall'energia del maestro Carlo Morandi. Dai brani natalizi a ritmiche blues e gospel fino al classico e pop, una serata di musica e solidarietà per sostenere come di consueto ormai da dieci anni l'associazione del territorio, amici del centro studi Sclerosi Multipla, un'iniziativa con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Gallarate e dell'azienda ospedaliera Sant'Antonio Abate della SST Valle Olona. Vi avevamo anticipato una iniziativa per questo fine settimana a Busto Essizio, l'abbiamo seguita al prossimo appuntamento a marzo. Allora siamo molto felici di come sta andando la rassegna fino adesso, quindi abbiamo fatto tre spettacoli, ottobre, novembre, dicembre più un fuori programma da Halloween e abbiamo sempre avuto una grandissima risposta di pubblico, che ringraziamo perché ci sta seguendo con tantissimo affetto e numerosissimo. Adesso per il 2023 ci sono un sacco di cose in programma, partendo subito dal 15 di gennaio con uno spettacolo in coproduzione, Orto Teatro e compagnia Walter Broggini, Al di là dal mare, che sarà uno spettacolo meraviglioso con teatro d'attore, pupazzi, burattini, musica dal vivo. Dopo questo spettacolo il 19 di febbraio vedremo una compagnia di Brescia che si chiama Filo di Rame con un altro spettacolo meraviglioso dove si insegnerà ai bambini come mangiare le verdure. Quindi Ortaggi al Rambaggio ci aspetterà il 19 di febbraio. E non è finita qui? No, assolutamente, perché il teatro sociale sarà protagonista, come tutta la città di Busto, per un grandissimo evento che si svolgerà a marzo, dal 21 al 26 marzo. L'Arca di Noe che io rappresento insieme alla compagnia, c'è un asino che vola, ECA Teatro, saranno le protagoniste, le capofilla di questo progetto, la giornata mondiale del burattino e della marionetta, che appunto sarà ospitata qui nella città di Busto con workshop, spettacoli, conferenze, un programma ricchissimo e a breve avrete il programma completo. Breve cenno a quanto avvenuto a Cantello, sulla facciata del municipio, per volere del sindaco, la bandiera inconfondibile dell'Argentina, che dalla vittoria dei mondiali, in una delle più belle partite nella storia della Coppa del Mondo, sventola appunto a Cantello, in nome per conto di un gemellaggio, in realtà l'iniziativa del sindaco non è piaciuta proprio a tutti, ma indubbiamente la consideriamo folcloristica. Sempre di calcio parliamo, ma non certo di mondiali, parliamo della nostra propatera e del buon esito di questo girone d'andata. Propatria San Giuliano 2-1, la Propatria vola 31 punti in classifica al termine del girone d'andata, un risultato incredibile. Risultato da record che oggi è arrivato grazie a un 2-1 totalmente pazzo. Partita molto equilibrata, gli ospiti ci hanno stupito per le loro energie. Nella prima frazione grandissima punizione di Indreca che pesca Boffelli per l'1-0. Nella seconda frazione San Giuliano ci prova, la però soffre e al novantesimo arriva una carambolesca autogol di Lombardoni che nonostante ci ha fatto una partita sontuosa, ma al minuto 92 Citterio si inventa un gol magistrale, un gol magico come è magica questa Propatria. Risultato pazzesco, 2-1, ci vediamo venerdì ad Arzignano per festeggiare alla perfezione il Natale. Migliori in campo, Lombardoni, professore della difesa nonostante l'autogol sfortunato, Fietta autore di una grandissima partita e Vezzoni, ottimo primo tempo. Partita molto difficile, l'avevo detto ieri, una squadra pericolosa, forte, molto tecnica. Siamo andati un po' in difficoltà nel secondo tempo, magari perché ci siamo passati un po' troppo subito, però magari se non facciamo il gol così, Toro, il pari così, magari finiva 1-0. Però potevamo ripartire molto meglio, abbiamo perso un paio di azioni importanti e poi il secondo gol viene di un'altra partita. Non c'è niente da commentare. Ho fatto una settimana un po' difficile perché non sono stato molto bene questa settimana, non ho fatto tutti gli allenamenti, quindi non avevo grosse aspettative per la partita di oggi. Però quando sono entrato, comunque sono entrato convinto, con la voglia di difendere il risultato, stavamo vincendo, e comunque la voglia di vincere era la cosa che conta più di tutte in queste partite, soprattutto quando entri dopo. Poi bisogna trovarsi anche nel posto giusto, al momento giusto per parare quel tiro. L'importante è dare tutto quello che si ha nel poco tempo che viene messo a disposizione. A tutti buonasera. La giornata di domani vedrà molte nuvole, salvo qualche schiarita lungo i rilievi alpini. Asciutto soltanto rare gocce. Visibilità localmente ridotta in pianura durante le ore più fredde. Temperature minime da meno 1 a 4 gradi, mentre le massime attese da 5 a 8 gradi. È tutto anche per lo sport. TG torna domani. Grazie e buona serata.